A distanza di anni è grave che molte aree e terreni interessati dagli sversamenti illegali accertati dall'inchiesta Cernobil e che vede coinvolti alcuni comuni del Vallo di Diano non siano stati ancora emessi in sicurezza o quantomeno delineati. Lo denuncia il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Michele Cammarano nel corso della seduta della Commissione Speciale Terra dei Fuochi. L'audizione chiesta dal Movimento 5 Stelle e dai vari sindaci e tecnici spiega segue una precedente seduta, andata deserta, tranne per la presenza del sindaco di Teggiano che, documenti alla mano, ha mostrato come il suo comune non si è coinvolto nella vicenda. In quest'ultima occasione, nuovamente e in modo reiterato, non erano presenti i sindaci di Sant'Arsenio e San Pietro Altanagro, sottolinea. Di quest'ultimo comune era presente un tecnico, avvisato in ritardo e quindi sprovvisto di documentazione. Abbiamo comunque incassato la disponibilità dell'ARPAC Salerno, continua Cammarano, nel tenere sotto controllo ed eseguire ulteriori analisi sui campioni terreni, oggetto dell'indagine dei magistrati. L'inchiesta Cernobil è di sette anni fa ed ha svelato la terra dei fuochi nel Salernitano ed è approdata nelle aule giudiziarie, rileva il consigliere regionale. Ma il processo non è cominciato. Ribadiamo che occorre chiarezza e trasparenza per procedere con la messa in sicurezza dei territori per la tutela della salute dei cittadini, conclude Cammarano. Provvederemo a riconvocare in commissione nuovamente i sindaci.